Sopra il luogo ieri sul cantiere dell'autostrada Siracusa-Gela, il primo dell'anno per l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone, l'opera che forse più di tutte, come ha detto, incarna la svolta voluta dal governo Musumeci per le infrastrutture in Sicilia. Il tratto Rosolini Spica, per 10 km, con i lotti 6-7, come ha confermato l'assessore, nell'arco di pochi mesi potrà essere aperto al traffico, ma, avverte, adesso serve che anche la burocrazia dei collaudi e delle verifiche ingrani la marcia. Ad accompagnare il rappresentante della giunta regionale durante il sopralluogo, anche la parlamentare regionale di Fratelli d'Italia, Rossana Cannata, ha evidenziato come sia stato ottimo lo sviluppo dell'opera fra Rosolini e Ispica, grazie all'impegno a pieno regime di imprese, tecnici e maestranze, malgrado l'emergenza Covid. Intanto è cominciata in parallelo un'altra corsa, quella contro la burocrazia dell'iter di collaudo e di tutti gli adempimenti necessari all'apertura al traffico dell'arteria. Anche a Roma, a cui fa riferimento la commissione di collaudo della Rosolini Ispica, scelta dal Ministero delle Infrastrutture, occorre che ingranino la marcia nell'interesse del territorio del sud-est dell'intera Sicilia, a poter fruire di un'infrastruttura attesa da decenni. La Cannata, che è componente della Commissione Attività Produttiva Lars, ha spiegato come il sopralluogo abbia rappresentato l'occasione per analizzare l'avanzamento delle opere, che con i primi 10 km circa dei lotti funzionali 6 e 7, consentiranno di percorrere il viadotto Scardina e di raggiungere lo svicolo di Ispica. Nuove linee e nuove proposte anche per una linea ferroviaria che colleghi l'aeroporto di Comiso allo scalo di Fontana Rossa e alla stazione di Catania Centrale, introducendosi alla Vizzini Catania. Questa, una proposta del consigliere di Ragusa Prossima, Gianni Jurato, che in sostanza riprende i fili di un discorso sospeso, che ha visto avvicendarsi diversi esponenti siciliani nel progetto di rilancio delle infrastrutture del sud-est. Jurato ha mostrato come la ferrovia Iblea si è rimasta invariata dalla fine dell'Ottocento, data della costruzione. Per realizzare ciò, ha concluso Jurato, i sindaci dei vari territori interessati devono iniziare a dialogare e progettare, al di là dello stretto interesse istituzionale per le loro città, consapevoli che lo sviluppo di un intero territorio non è solo opera di relazioni del singolo, ma opera di più comunità che hanno capito che la loro casa è il mondo.